Incontro tra San Domenico Schi e la commissione tecnica del CAI per parlare del progetto avvicinare le montagne che continua a far parlare di sé. Si è storpiato un po' il significato evidentemente per difendere interessi che non sono quelli di vera conservazione dell'ambiente ma probabilmente degli altri tipi di interessi e quindi si è storpiato dicendo che verrà distrutto il devro quando in realtà non c'è nulla di tutto quello, anzi il devro rimane così com'è semplicemente viene ristrutturato con le strutture esistenti che sono anche faticenti, oggi siamo qui all'alpe devro e ci si gira attorno si vede lo scheletro del cervandone, gli impianti arrugginiti piuttosto che una viabilità precaria, il progetto mira semplicemente a sistemare questi tre elementi. E poi è stato archiviato anche il progetto iniziale di unire San Domenico con l'alpe devro. Sì, il progetto è stato stralciato ma questo è appunto frutto di questa concertazione che è stata fatta a fasi successivi in totale trasparenza, quindi esempio più lampante della trasparenza, della voglia davvero di lavorare bene è proprio questo discorso del collegamento che è stato accantonato. San Domenico Schi è uno degli attori ma ce ne sono tanti altri. Certamente, questo progetto è un progetto che coinvolge tutto il territorio, è un progetto innanzitutto di iniziativa pubblica, è un'iniziativa istituzionale che coinvolge i quattro comuni interessati e la provincia Verbagno-Cuso-Ossola. E quindi l'occasione dell'accordo territoriale è davvero di trovare un'intesa istituzionale tra tutti i soggetti interessati al territorio, non solo privati, non solo pubblici, ma anche i futuri che avranno un interesse indotto da un miglioramento generale della situazione ambientale e infrastrutturale che potrà innescarsi con questa intesa tra istituzioni. La Commissione Tecnica del CAI sta valutando e quali prime valutazioni ha portato rispetto al progetto Avvicinare le Montagne? Abbiamo ben compreso lo spirito che non è solo impianti da sci, non è solo attività legata alla neve, ma si vuole destagionalizzare, quindi offrire un prodotto che sia utilizzabile 365 giorni all'anno. Quello che a noi è subito balzato all'occhio di alcune proposizioni che sono state messe su progetto è il possibile impatto ambientale su ambienti attualmente non antropizzati. Vorremmo valutare, capire e in un certo modo capire anche quanta sia la disponibilità a negoziare eventuali compensazioni che tra l'altro sono previste dalla legge.